Kate Middleton ha dato alla luce un maschietto Il terzo figlio di William d'Inghilterra è nato il 23 aprile alle 11,01 di mattina alle 12,01 in Italia Ed è maschio. E l'orgoglioso papà ha accompagnato George e Charlotte, il giorno stesso della nascita, a conoscere il fratellino, foto, video 1, video 2 Il tweet di Kensington Palace Clicca la foto per ingrandirla l'annuncio ufficiale L'annuncio ufficiale di Kensington Palace è avvenuto via Twitter. Papà William d'Inghilterra ha assistito al parto Il bimbo pesa 3,8 kg alla nascita e sta bene. Come pure mamma Kate Solo poche ore prima, era stato lo stesso Kensington Palace a confermare che Kate Middleton era stata ricoverata in ospedale per il travaglio guarda Un travaglio veloce, dunque dalle 6 di mattina alle 11. Il nome, e ora, come da tradizione, è attesa per il nome Secondo i proverbiali bene informati, il terzo royal baby potebbe chiamarsi Albert Quello che è già certo è che è quinto in linea di successione, dopo Carlo, figlio della regina Elisabetta e nonno del neonato, papà William e i fratelli George e Charlotte Punto dopo di lui, c'è Harry d'Inghilterra, che ora può pensare al suo matrimonio con Meghan Markle, guarda è il giorno di San Giorgio La curiosità è che il terzo genito di William e Kate è nato nel giorno di San Giorgio, patto